Buongiorno a tutti, è presto per noi tutti, siamo pronti? Cominciamo con la preghiera. Corso ACI 2, seconda lezione, cose che noi neghiamo. Cominciamo con la preghiera. Facciamola in tibetano. Questa è una cosa bella perché ci sono tanti tibetani, anche in India, lo farebbero in tibetano. E questa è una benedizione di tutte le generazioni che vogliono raggiungere l'illuminazione per tutti gli esseri viventi. Io non vorrei che il mio conto di semi si impoverisci. Io voglio che i miei semi si rinvestano. E io voglio che i miei semi danno i buoni risultati di tutte le mie azioni. Io voglio utilizzare i miei semi per raggiungere l'illuminazione. Se voi non sapete come fare... Guardate le mie mani. le dita medie in su, poi le dita piccole incrociate. Così voi avete creato una montagna. Se è troppo difficile mettete le mani come ha fatto vedere Bill. Grazie a tutti. 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 michael e io ho studiato da lui tre anni nel 2004 lui è andato via ed era tutto molto diretto senza scuse l'insegnamento era in stile tibetano i testi erano in tibetano tutte le pratiche in tibetano e sua pratica importante era ricordare le preghiere in tibetano 10 mai era un pioniere della generazione della persone che parlano in inglese e sinceramente questo era abbastanza difficile quando era tutto in tibetano capire significato io ho tanti in tibetano e noi abbiamo fatto un grande progresso da quel momento per capire alcune pagine dovevi spendere tutta la giornata e adesso noi abbiamo tutto in inglese tutto è chiaro e i professori in università erano anche loro innovatori alcuni non capivano ma alcuni producevano questi testi difficili dal tibetano in inglese ma non capivano così è come l'ha capito di esce michael e io raccomando di ascoltare i corsi corsi di di esce michael corsi che ci sono io vi posso dare tutto il materiale è come guardare jimmy hendrix o beatles ci sono le canzoni che non basta ascoltare una volta sola e noi vi invitiamo al progetto bassina la torre di suanzani e in questo progetto voi potete ascoltare come ghiaccia michael traduce questa saggezza e questo è il progetto più profondo lui traduce c'è stato scritto dal tibetano e se volete qualche dubbio come si svolge questo quando voi vedrete come lo fa anche se va tutti questi dubbi svaniscono voi potete anche seguire l'ambri in aprile 12 al 21 aprile e noi andremo in diamond mountain per ascoltare lì ghiaccia michael e i suoi inclinamenti e quando lui è con noi lui c'ha 71 anni e cercate di ascoltarlo più possibile e adesso ci siamo azione abbiamo una lezione molto interessante oggi lezione che parlerà di graccia iniziamo da graccia noi avremo la definizione di graccia grazie ad alina che ha creato bellissimi slide quando abbiamo visto questa piccola ragaccia vediamo che cos'è voi vedete questa creazione con le unghiette e con piccole corna perché abbiamo questa immagine carina perché gaccia è quello che noi neghiamo quello che non esiste quello da cui è vuota la vacuità noi abbiamo un'idea come appaiono le cose e questa cosa non esiste probabilmente dovremmo dire che adesso è la più importante idea di questa saggezza alcune cose possono influirci molto facilmente perché io mi devo preoccupare se voi conoscete una persona che è molto ambidiosa potrebbe essere che la persona pensa di un qualcosa che non esiste ad esempio un marito geloso la moglie può pensare del suo partner che lui non dice la verità ma invece non è così il marito la moglie voi potete pensare come questo può influire sulle persone gaccia è un qualcosa che non esiste non può esistere non ha esistito mai ma questa cosa ci distrugge le nostre vite e proprio per gaccia noi moriamo tutte le nostre afflizioni mentali che sono focalizzate su un qualcosa che non esiste da cosa è vuoto alla vocuità leggiamo la definizione se noi non sappiamo come appare un oggetto autoesistente se questo oggetto esisteva noi non potevamo mai conoscere la vacuità perché la vacuità consiste nelle assenze delle cose autoesistenti e questa cosa autoesistente è la cosa che noi leghiamo o gaccia gac è terminare e cia è di azione e voi vedrete il gaccia in altro contesto quando studierete la danza del leone alla fine di ogni livello voi negherete qualcosa voi chiudete gli occhi ascoltate rumori intorno a voi rumori che stimolano i vostri sensi tutte le cose che stimolano i nostri organi e voi cercherete di definire cosa sono dopodiché voi decidete no io non ascolto più niente io chiudo gli occhi non vengo coinvolta nel mondo esterno e questo mondo esterno sarà quella cosa che voi negherete quello con l'oggetto che noi neghiamo noi neghiamo quello da cui la vacuità è vuota o l'oggetto che non esiste un altro esempio classico noi abbiamo due mariti in cucina e la moglie che dice che io non ho fatto niente grida il marito che sgrida è perché lui è arrabbiato perché ha avuto una giornata difficile e io non ho fatto nulla io semplicemente sono tornato a casa e lui mi ha sgridato e questo è il marito che proviene dal fatto che io ho sgridato i miei figli prima una settimana prima questo marito non è mai esistito ma lui si presenta se fosse reale ma lui non può esistere perché se lui esistesse ognuno lo percepirebbe nello stesso momento nello stesso modo un altro esempio possiamo fare con la carta di credito c'è una carta di credito Discovery noi in Ucraina abbiamo una carta di credito che si chiama Electron questa carta la può avere chiunque in America anche i studenti possono averla a volte voi non potete nemmeno pagare con questa carta perché crea tanti problemi e molti negozi non accettano questa carta di credito immaginate se io ho questa carta di credito la carta di credito che la maggior parte non funziona e io vengo in un ristorante e questo mi è successo un paio di giorni fa sono venuta in un caffè e ho invitato la mia amica e ho capito che io non avevo la carta per pagare e io mi sono sentita al disagio ho cominciato a preoccuparmi quando fai questi gesti che cerchi e li trovi io mi sono scordata la mia borsa con tutte le carte per questo Gakcha è un qualcosa che non può esistere la carta Discovery non esiste è solo un esempio può essere anche un'altra carta non può essere utilizzata è una buona carta di credito che non esiste non solo questa perché non c'è nella tua tasca è come la vacuità ho un altro esempio che mi piace tanto è un po' strano questo esempio Caro, guarda, noi in questa stanza abbiamo un elefante e questo esempio è già è strano perché non può essere un elefante nella stanza ma Gakcha è se noi immaginiamo un elefante con due teste con due teste 40 metri di altezza che corre avanti indietro per la stanza è una cosa che non può esistere è impossibile in teoria voi potete posizionare un elefante in una stanza ma questo elefante è proprio impossibile come impossibile anche il mio il marito che mi sgrida un elefante con due teste cento gambe è impossibile ma la cosa più curiosa è quando noi percepiamo le cose come autoesistenti questo fatto ci influisce tanto e questo fatto ci crea tanti problemi per noi perché noi abbiamo un conflitto con il mio marito io non capisco che se io non sgridavo i miei figli il mio marito non sgridava a me e se io non smetto a sgridare il mio marito qualcun altro sgriderà a me in futuro e io reinvesto reinvesto i semi in questo circolo infinito i semi crescono il marito che è creato dalle cause precedenti che esiste e che dipende dalle azioni le mie azioni di prima questo questo marito esiste ma non esiste il marito autoesistente che non proviene dai miei semi perché il marito di origine dipendente è possibile e noi lo possiamo cambiare e noi possiamo fare anche la pratica di quattro forze per cambiare oppure fare quattro passi facciamo questa cosa molto veloce quattro passi se voi volete ricevere quello che volete decidete quello che volete in una frase molto corta e chiara deve essere chiara e misurabile secondo passo trovate la persona che vuole la stessa cosa o ha lo stesso problema e passo numero 3 voi aiutate questa persona raggiungere il suo desiderio e la quarta quarto passo e voi gioite di questo fatto che voi aiutate la persona come io ho piantato i semi per il mio marito io andavo in casa delle persone anziane e aiutavo una persona anziana lei era felice e io cercavo di essere una parte ideale per lei ogni settimana io andavo da lei e io cercavo di essere regolare e la rimanente parte della settimana io pensavo di lei e io ho fatto una persona un po' più felice e questi sono i semi molto belli io pensavo proprio perché ogni cosa è vuota io posso ricevere il mio risultato e io l'ho ricevuto e anche Bill da parte sua ha fatto la stessa cosa e quattro forza e quando voi volete eliminare quello che non vi piace Gersho e Michael dice che quando voi avete problemi voi non sapete dei problemi che ha una persona vicino a voi se voi sapevate dei problemi delle altre persone voi cominciate a piangere noi tutti abbiamo problemi ma come possiamo eliminare questi problemi la prima cosa è ricordare da dove provengono tutte le cose ricordare dei semi se io ho qualche risultato cattivo io avrei fatto qualcosa di cattivo per avere questo risultato nel passato se il mio marito adesso mi sgrida vuol dire che io ho sgridato qualcun altro nel passato secondo forza è che io a me mi dispiace io sento dispiacere per questa cosa ma io non mi sento in colpa io penso io non lo farò più è una cosa poco piacevole quando qualcuno mi sgrida evidentemente nel passato ho sbagliato ho fatto qualche stupidaggine ma io non sento colpa io sono cosciente del passo che ho fatto nel passato sono sbagliata io non sono una persona cattiva e se fosse come un esempio quando voi prendete un veleno e mi dispiace è la terza forza che voi decidete che non lo fate più e questa è una vera forza io smetto di fare cose cattive è la quarta forza è la forza di antidotto antidote io devo bilanciare questa azione cattiva di conseguenza io devo fare un qualcosa che è contrario a quel male che ho fatto prima se io ho sgridato qualcuno magari io chiedo il perdono oppure io racconto a qualcuno questo strumento e aiuto all'altro oppure io studierò io utilizzerò i miei studi come antidote perché Geshe Michael Geshe Michael durante questa lezione dice delle illusioni e io penso che questa è una cosa importantissima possiamo parlare un po' dell'illusione noi abbiamo un'ora ricordate che noi abbiamo parlato già delle diverse scuole abitarma sutristi mente solo e e sentiero medio e sentiero medio a la scuola superiore scuola e inferiore insegnamenti che parlano della preziosità della saggezza e la percezione di qui a con che città noi parliamo della scuola che si chiama svatandrika che è la scuola inferiore e la scuola prasanghika e la scuola superiore del sentiero medio nella scuola inferiore del sentiero medio nella scuola inferiore del sentiero medio loro parlano dei 50 50 cosa significa 50 50 quando voi guardate qualcosa adesso io prendo la penna per spiegare meglio questa cosa questa è una cosa molto interessante secondo la scuola inferiore del sentiero medio voi guardate la penna è quello che vuoi vedere è una cosa nera e voi pensate queste penne secondo la scuola inferiore quanto voi vedete questo oggetto la vostra coscienza pensa che lì c'è qualcosa di lungo e nero voi non lo trovate perché sparisce è una cosa che mi piace e la scuola inferiore dice che se voi vedete un qualcosa di lungo e nero voi non lo trovate perché sparisce è una cosa interessante perché ci sono video che dimostrano internet ci sono delle videocamere molto potenti che ad esempio guardano su una tazza di caffè semplice tazza di caffè la forma tazza rotonda e quando questa cacca scende giù più vicino la tazza sparisce voi vedete il liquido il caffè e poi questa camera entra dentro e vede bollicine e dentro la bollicina voi potete vedere anche le cose più piccole e potete anche arrivare ai piccoli cristalli è una cosa incredibile che voi potete vedere lì dentro questi cristalli diventano ancora più piccoli e in quel momento questo non sembra una tazza di caffè nella scuola superiore perché loro dicono anche questo oggetto non esiste se voi cominciate a cercarlo e qui noi parliamo dei dati grezi nero e lungo è la proiezione della nostra mente l'oggetto si chiama penna ma se voi cominciate a cercare questa penna voi non la trovate mai è come la camera che scende nella tazza di caffè dove sta il caffè la scuola inferiore dice che la cosa esiste 50 per cento a 50 per cento ma la scuola superiore dice che nemmeno questo esiste gaccia differenzia si differenzia per queste due scuole gaccia per la scuola superiore e tutto ciò che non viene proiettato dalla vostra mente tutto ciò che non non sono i vostri semi a 100 per cento non è gaccia entrambe le scuole quando guardano il marito dicono che sì questo è gaccia ma la scuola superiore dirà questo marito è 100 per cento proveniente da voi e la scuola inferiore dirà che il marito esiste 50 50 è un qualcosa con la bocca rotonda con la faccia arrabbiata esiste 50 per cento e l'altro 50 per cento provengono dai semi tutto ciò che è differente da 50 50 questo è un argomento molto interessante perché noi abbiamo varie versioni di delle cose che noi pensiamo e perché noi pensiamo in questo modo e per questo ci vuole tempo per veramente capire queste idee voi dovete ascoltare varie versioni di studi della vacuità e più voi pensate della vacuità più capirete noi abbiamo avete innumerevoli senza inizio e queste vite noi avevamo tante idee sbagliate di come funziona e noi agivamo in modo errato su come esiste questo mondo e se noi capiamo questa cosa noi possiamo cambiare e studiando queste idee voi potete sviluppare la conoscenza intellettuale della vacuità e dopo che voi avete visto la vacuità direttamente voi direte wow wow e la scuola superiore del seguito medio è la scuola corretta perché questo è importante perché se qualcosa è 50 per cento esiste da sé voi non potete cambiare questa cosa la scuola superiore dice se 100 per cento dipende da me vuol dire che io lo posso cambiare e cosa possiamo fare quando vuoi passate ai corsi avanzati quando fate 18 corsi quando avete fatto tutti i vostri compiti trovate il vostro insegnante che vi accetta come discepolo se voi conducete la vita etica voi arriverete agli insegnamenti elevati e quindi voi potete utilizzare le conoscenze più avanzate il tibetano ieri inizio crim in prima parte poi utilizzate le vostre conoscenze della vacuità della dipende dell'origine dipendente per creare il vostro angelo e se 50 50 forse voi rimanete a livello umano noi parliamo delle creature superiori degli angeli perché le persone già hanno fatto queste cose noi avevano avevo avevano tanta compassione nel cuore perché questo cento per cento proviene da noi e voi potete diventare angelo e alla fine voi arrivate a diventare un angelo ci sono le persone che comunicano con angeli come c'è zonkapa che comunica con mangiusceri o gesù abbiamo evidenze che qualcuno già fatto questo e questo è possibile perché questo a 100 per cento dipende da voi quando invece 50 50 non possibile è una cosa più importante è che potete diventare angelo perché nemmeno dovete pensare di 50 per cento anche per cento se voi esistete in modo autoesistente voi non potete cambiare cambiare nulla e lo studio della vacuità da cosa sono vuota e voi avete la stessa la qualità del buddha buddha si vede come buddha perché lui proietta un'altra immagine sulla vacuità è la stessa vacuità del buddha e voi potete proiettare una un'immagine diversa e noi siamo influenzati dalle illusioni e questa è una cosa importante da capire che cosa è illusione o in sanscrito si chiama maya è una cosa strana illusione e quando qualcosa non ha senso sì no no non è così molte persone che studiano queste questa saggezza all'inizio pensano che è tutto illusione perché loro non capiscono bene questi questi studi loro dicono no niente ha nessun significato perché tutto illusione ma questo è un pensiero sbagliato in qualche senso c'è un po di verità ma loro non capiscono bene la definizione dell'illusione e questa è una cosa importantissima perché voi vedete un qualcosa in un modo ma questa cosa esiste in un altro modo ma questa illusione non significa che niente esiste e che io posso fare qualsiasi cosa senza avere le conseguenze illusione è una cosa che le cose non esistono da sé il mio marito che mi sgrida e perché lui aveva una giornata difficile ma non è così lui esiste ma lui esiste dalle mie proiezioni perché io ho sgridato qualcuno prima io ho dei semi e se io non avevo questo seme io tornavo a casa e lui mi abbracciava io avevo questo seme e lui mi ha sgridato quando sono tornata a casa perché io ho sgridato i miei figli io non ho fatto nulla e questo è l'illusione pensare così perché noi vediamo le cose come non sono io preparo da mangiare e lui mi sgrida se voi avete iniziato i corsi sia adesso è per voi sarà un po strano perché noi sappiamo da una scuola all'altra anche perché quando io ho seguito questi corsi nel 2015 io ho non capito che ci sono varie scuole e non capivo alcune cose e solo quando sono diventata l'insegnante e si hai io ho finalmente ho capito scuola inferiore la forma e la dimensione esiste da sé e come io percepisco proviene da me per questo io questa scuola la chiamo la scuola di mio psicoterapeuta si c'è un qualcosa che qualche problema che al tuo marito ma tu lavorerai sulle tue interpretazioni di come tu lo percepisci per questo io chiamo questa scuola la scuola di psicoterapeuta è una cosa molto forte che riguarda vacuità non dobbiamo accettare questi 50 per cento del marito che sgrida voi potete cambiare tutto voi dovete accettare il vostro karma dovete capire le conseguenze del vostro karma delle vostre lezioni io sono uno psicologo di relazioni buddiste se voi volete consigli questo è il mio consiglio voi potete cambiare vostro marito e lui non se ne accorgerà nemmeno se voi capite la scuola superiore del sentiero medio se lui proviene da voi a 100 per cento voi non dovete nemmeno parlare con lui voi cambiate la vostra mente e voi pensate lui mi sgrida lui non lava i piatti lui mi critica ok questo proviene da lui e questo voi direte più dettagliatamente nella prossima lezione io devo accettare perché io ho studiato 18 corsi io ho impiegato otto anni della mia vita e io devo accettare che lui proviene da me tutto quello che io percepisco quello che sento la sua forma tutto proviene dai segni voi potete dire altre persone non hanno la forza della volontà perché per accettare che tutto proviene dai vostri segni no voi non dovete annunciare a lui che voi lavorate dovete decidere dovete decidere dovete identificare il seme lui mi critica ma magari c'è qualcuno che io critico posso io dire complimenti a un'altra persona e questa è una cosa che io devo fare e così io cambio la mia realtà e non vi dovete focalizzare sulle qualità negative perché più voi pensate più voi pensate delle qualità negativi lui è cattivo lui si arrabbia lui mi critica voi risseminate i stessi semi ecco come voi potete cambiare il vostro marito c'è uno scherzo il d'arma oh mia moglie era così arrabbiata con me perché anche Buddha vedeva la mia moglie così arrabbiata quando noi stavamo in diamond mountain non c'erano ristoranti lì noi ci siamo fermati e abbiamo mangiato ma questo cibo era talmente pesante grasso e noi ci sentivamo tanto male ma questo cibo era autoesistente allora facciamo una definizione della scuola cosa significa nella scuola svatantrica la esistere esistere nella scuola svatantrica significa che deve essere un oggetto in un modo che esiste in un modo illusorio ingannevole e deve esistere un qualcuno che percepisce con la coscienza con la coscienza integra non non influenzata da qualcosa che ha detto che in India ci sono dei maghi che prendono la baguetta magica e spargono spargono la polvere magica e in scena appare o un cavallo o un elefante e come fanno questa cosa se voi l'avete visto mai io non sono riuscito a trovare video di questa magia e Geshe Michael dice che lui ha visto questa magia e noi utilizziamo questo esempio per parlare dell'illusione o inganno ci saranno tre persone in questo scenario un mago le persone che guardano e un'altra persona che entra dopo che sarà con tutti i spettatori che hanno subito l'influenza di questa polvere magica loro vedranno questa baguetta magica che diventa o un cavallo o un elefante e dicono che le persone si spaventano perché sentono questi questi suoni veri e decarnali e le persone cominciano a gridare spaventati scappano e questa cosa che tutti scappano attira altre persone che non sono ancora ingerizzati da questa polvere magica e vengono a vedere la scena e loro non vedono non vedono cavallo non vedono elefante perciò noi abbiamo gli spettatori che vedono l'elefante o un cavallo abbiamo il mago che vede un cavallo o l'elefante ma lui non crede che questo è un cavallo o l'elefante e poi ci sono le persone che vengono dopo e non vedono né cavallo né elefante ma vedono la paghetta magica e ognuno di questi aspetti hanno un significato come noi percepiamo la realtà come ogni persona percepisce la realtà allora i spettatori che erano fin dall'inizio che hanno subito l'influenza di questo questa polvere magica loro si chiamano il sosokievo loro vedono questa illusione se fosse una realtà vera e loro credono in cose autoesistenti che le cose esistono da sé il mago è la metafora di aria è Bodhisattva che ha visto la vacuità direttamente ma lui è tornato questa esperienza lui ha visto ha avuto questa esperienza lui ha acquisito questa saggezza di vedere la vacuità direttamente lui ha percepito le quattro verità nobili di aria lui vede le cose come autoesistenti esistenti da sé ma loro non credono che questa è la verità loro vedono l'elefante ma non credono che questo è l'elefante lui è la terza è il terzo gruppo quelli che sono arrivati dopo loro vedono la baghetta magica chi è questa persona che è arrivata dopo questo non è Buddha ma è Bodhisattva che percepisce direttamente la vacuità in questo momento e questo per me era difficile perché non può essere Buddha questo terzo terzo gruppo terza persona la differenza tra quello che è arrivato dopo ritardatario che vede la baghetta magica e non vede l'elefante è qualcuno che vede le cose come la verità assoluta a livello 8 di Bumi Bodhisattva vedono sia realtà assoluta che realtà ingannevole e loro e loro e loro possono vedere sia l'elefante che la baghetta magica ma questa persona che è ricardataria non vede entrambe le cose vede solo la baghetta magica questa è la differenza e noi abbiamo finito quando voi ritornate per la prossima lezione noi abbiamo già seminato il seme per capire tutte queste cose e questo seme non sparirà voi avete già seminato e questa è l'idea più forte di questi insegnamenti l'esempio di un mago rimarrà con voi per tantissimi anni questa è un'idea enorme a me mi piace tanto discutere su queste idee e durante la prossima lezione noi parleremo delle cose molto interessanti grazie a tutti voi dovrete sentire migliaia di dimostrazioni di vacuità per capire meglio e noi inizieremo a insegnarveli tra due ore sì tra 8 minuti ci sarà una lezione di torre di suan-san e dopo noi avremo la nostra prossima lezione e ci siamo un po' confusi con tutte queste lezioni noi inizieremo alle 10 e 30 secondo Chicago subito dopo la torre di suan-san 25 minuti 25 minuti per riposare per avere una pausa e adesso facciamo una preghiera in tibetano un po' confusi di la torre di Grazie a tutti. Grazie a tutti, grazie che siete venuti, grazie a tutti gli interpreti, produttori. Grazie a tutti, grazie a tutti. Guardate Geshe Michael, per favore, come lui traduce, guardatelo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.